Io mi domando e dico dove vai con quelle scarpe? Ma suoi mie, dove vai? Arbagno? No, è pulito. A mamma scappa, che scappa? Che scappa? Chiudi l'occhio, appoggia dal muro, vedrete che passa. A mamma c'è una lescica che è notri. E allora fai uno zompo, dai, opp, vai, oppela, vai. A mamma sono 18 metri e 4 stipiti, che sono in bocchito?